Far tornare le imprese in centro storico, combattendo e arrestando il loro esodo dal salotto della città, questa è la priorità di Convesercenti e Centrostudi Cescot in merito alla rivitalizzazione del centro storico sulmonese. Curare l'area d'urbano e l'estetica, chiudere o aprire le auto sono proposte da prendere in considerazione, secondo Convesercenti e Cescot, ma non con un freno al drammatico fenomeno della disertificazione e dell'impoverimento delle imprese. Dalle due associazioni di categoria parte una nuova sollecitazione a prendere in considerazione il noto patto per le città che mira a rilanciare centri urbani e negozi di quartiere. Molteplici le proposte di Convesercenti e Cescot per la riqualificazione del centro storico, fra cui la valorizzazione dei prodotti tipici tradizionali, la rete delle edicole e di Infopoint sui servizi turistici di Sulmona, un modello nuovo di marketing urbano e negozi a termine, un'idea che è piaciuta anche ai cittadini intervistati da Onda Tg. Si tratta di un'attenta cura contro la desertificazione commerciale, la crisi e l'abbandono che prevede l'attivazione di temporary shop in centro storico e in altre aree strategiche della città. I negozi a tempo dovrebbero essere gestiti dal Comune, dalle organizzazioni di imprese, dalle associazioni dei piccoli proprietari e dalla Camera di Commercio. Con una formula semplice e dinamica, il proprietario mette a disposizione gli spazi. Il Comune e gli altri partner gestiscono la parte finanziaria e giuridica, stipulando i contratti per la gestione dell'immobile per un periodo da uno a tre mesi. I commercianti e le associazioni soffriscono degli spazi anche in piccoli gruppi, creando una rete e pubblicizzando prodotti ed eventi attraverso un'adeguata e incisiva azione di marketing. Secondo Combesi Arcendi e Cescot, la città è anche motore del sistema economico, non solo luogo di erogazione di servizi a disposizione dei soggetti. Quando infatti i contesti urbani riescono a superare gli ostacoli posti dagli adempimenti burocratici e dagli angusti confini della politica locale, lo spazio civico acquista un nuovo ruolo nell'ambito delle responsabilità territoriali nei processi di crescita economica e di aggregazione sociale.